Due ragazzi in cerca di lavoro leggono su un giornale Circo cerca apprendisti per lavoro saltuario Buona paga! Insomma che fanno? Si presentano al circo e il direttore li conosce tutti e due A un certo punto gli fa così Allora, vi spiego subito di che cosa li tratta questo lavoro Li porta dentro un tendone e apre In fondo ci stanno due tubi grigi enormi che fa così Voi dovete andare a prendere quei tubi E tirarli prima su e poi giù per circa un'ora Allora gli fa basta così Vedi bello sto lavoro Insomma si trovano là e cominciano con questi tubi E' uno e due E' uno e due Insomma basta un'oretta dopo un'ora Tornare il direttore nel circo e gli fa così Ok basta così Tira fuori e gli dà 50 euro per uno I tu fischelli guardano un'ora del lavoro 50 euro e gli fa Ah mi vedi che fissa meno male E gli fa andare il direttore Che facciamo? Torniamo anche domani? No no tante hai pippa e elefanti E li fanno una volta a settimana